E oggi ci troviamo a Valentano per una manifestazione importante, una manifestazione grande fatta qui a Valentano che si intitola Valentano in Fiera. È fino al 19 settembre 2010, oggi però è 12 settembre 2010, è esattamente domenica, noi la stiamo visitando, ci è ovviamente di tutto, altro che si è arrivato a mia esposa, noi ci vediamo tutti e tutti su ematube.it